amici di milan.soccher buongiorno buongiorno da ma tu ami più me il milan il canale dedicato ai rossoneri e il buongiorno dei rossoneri e il milan in tasca voi avete il vostro smartphone vi collegate con ma tu ami più me il milan milan.soccher e vi diamo tutte le news dunque stamattina è pasqua quindi tanti 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 cari auguri di buona pasqua passiamo questa santa pasqua prima in classifica sapendo che evidentemente non è facile non è facile rimanere in vetta ma per il momento siamo in vetta quando hanno criticato il milan per aver pareggiato con il torino con il bologna compreso il sottoscritto ecco facciamoci un attimo l'esame di coscienza e guardiamo come ieri il torino ha strapassato per lungo e per largo la lazio pur pareggiando e come in effetti bologna avrebbe meritato la vittoria contro la juventus che invece ha pareggiato quindi hanno pareggiato juventus con bologna e lazio con torino la serie a quest'anno è veramente complicata difficile quindi tutto è aperto tutto è possibile speriamo solamente che bologna non si scansi quando vede i nerazzurri quando vede i nerazzurri si scansano per quale ragione comunque oggi vogliamo vedere il confronto con i calendari e poi andremo a parlare del derby ma soprattutto ci fa molto 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 piacere che la gazzetta dello sport che ogni giorno citiamo oggi non dica niente di come il milan sia passato in testa anche nel numero dei tifosi presenti a seguito della propria squadra l'ha fatto poco prima che giocasse l'inter dicendo che per il momento il milan ma questa sera gioca l'inter quindi la supererà poi hanno preso qui perché il milan ha fatto 71 mila spettatori contro appunto il geno e adesso è scomparso dai radar dai radar questa informazione è scomparsa dai radar dunque diciamo che il calendario non è una cosa che ci viene a favore perché perché è completamente a favore della squadra della seconda squadra di milano d'altro canto anche tutto quello che i risultati che ci sono stati in questo in questo anticipo pasquale diciamo così ormai anticipo è una parola grossa visto che non si gioca più praticamente la domenica apriti da parentesi quest'anno il calendario è stato schifoso una tragedia partite clou messe a mezzogiorno e mezza o messe così sabato pomeriggio e poi serate dalle 8 e 30 alla domenica sera a vedere non lo so venezia udinese veramente un calendario terribile ma non perdiamoci in troppe informazioni e andiamo direttamente a quella che diciamo così quello che è il confronto per quanto concerne il calendario in termina dicevamo per far comunque pari con la coppa italia si gioca dunque martedì 19 aprile quindi dopo domani alle ore 21 ed è appunto il ritorno di semifinali di coppa italia andate finita 0 a 0 un pareggio diciamo così ancora qui divige la formula dell'ultima volta che se si fa gol fuori casa vale doppio quindi inter milan 1 a 1 passa il mira è questo vediamo un po la partita invece per quanto concerne la partita di campionato domenica 24 mila 24 milan milan sempre qui domenica 24 aprile si gioca lazio milan primo maggio milan fiorentina 8 maggio verona milan eventuale finale l'11 maggio di coppa italia 15 maggio milan atalanta e 22 maggio sassuolo milan ok ora che cosa succede che se andiamo a vedere invece l'inter l'inter avrà inter roma che può essere complicata ma te la giochi in casa la roma è lì che vuole rosicchiare il quarto posto bologna inter il recupero speriamo che non si scansino udinese inter non è una partita facile perché l'udinese sta andando bene ora quanto l'udinese possa raggiungere diciamo così obiettivi obiettivi di classifica più interessanti 0 l'udinese è super salva non ha niente diciamo così da chiedere si trova al dodicesimo posto non può andare nessuno può andare né giù ecco qui tra virgolette è il primo il primo vantaggio il primo vantaggio per quanto concerne poi la partita successiva inter empoli l'empoli non rischia la retrocessione cagliari inter cagliari inter era meglio era meglio sarebbe stato meglio scusate se il cagliari ieri avesse perso o pareggiato messo a suolo per magia si è scansato a proposito le due espulsioni contro il contro la juventus ieri sera quando hanno giocato juventus bologna due espulsi del bologna saltano la coppa italia uno sicuro cioè guardiamo solo a la var eccetera eccetera guardiamo anche a questi dettagli torniamo al calendario inter sampdoria l'ultima giornata cioè non è facile ma è molto più facile del milan che ha invece la lazio a roma milan fiorentina fiorentina lanciatissima verona milan verona milan non è mai stata facile per soprattutto per il milano verona però milan atalanta e sassuola mia cioè capite bene che lazio fiorentina di seguito è molto complicato quindi anche ieri costa curta rilasciato l'intervista dicendo fatto un sacco di polemica in tutto questo noi stiamo facendo solo in termina ma il napoli e lì è bisogna vedere stasera cosa fa domani cosa fa domani cosa fa con la roma napoli roma lunedì 18 aprile ore 19 poi va ad empoli poi in casa il sassuolo poi va a torino col torino napoli genoa e spezia napoli tra i tre il calendario più difficile c'è nel mio su questo siamo tutti d'accordo per cui il milan ha una partita decisiva cioè una partita decisiva il derby di dopo domani martedì sera perché metti in casaforte una finale che presumibilmente sarà contro la juventus una juventus che è cosa che mi fa altrettanto paura perché questi rischiano veramente il quarto posto quindi c'è questo trofeo che balla tanto per dire anche quest'anno abbiamo vinto qualcosa quindi tra inter milan scusa fiorentina anche se ma l'andata della semifinale di coppa italia è andata veramente male tra milan inter juventus e napoli due trofei ok milan inter juventus napoli due trofei quindi per statistica abbiamo 50 per cento di probabilità di vincere qualcosa non è così la statistica però vabbè una statistica illusoria va bene mettiamola così quindi ora oggi apriamo lo volto di pasqua festeggiamo ma sempre pensando al milan domani lunedì di pasquetta gita fuori porta martedì iniziamo a concentrarci completamente martedì faremo una sorta di special dedicato al derby insomma seguiteci così vedrete anche un po più da vicino le ultime formazioni ultime informazioni eccetera eccetera quindi un saluto da milan punto soccer una buona pasqua dal canale milan punto soccer ma tu ami più me o il milan e che cosa dire altro sempre e comunque testa il milan buona giornata ciao